Questo tipo di partite se dalla sponda opposta sappiamo che ci saranno grossissime motivazioni quando si affronta la prima in classifica è chiaro che noi dobbiamo essere bravi al contempo a tenere alta la mentalità e a dimostrare la nostra maturità per quanto riguarda la mentalità che dobbiamo sempre avere in ogni partita. Lecce è una squadra sulla carta attrezzata, fortissima con giocatori anche di altra categoria ma noi sicuramente non dobbiamo pensare a quello che noi dobbiamo cercare di mettere in campo e dobbiamo affrontarli con rispetto ma con la consapevolezza che siamo nella stessa categoria e quindi possiamo fare una grande partita. Sicuramente in casa penso si costruiscono le salvezze, ogni squadra raggiunga i suoi obiettivi in casa quindi dobbiamo sicuramente fare meglio partendo dalla partita di Lecce. E dispiace questo perché penso che storicamente il Ceravolo sia uno stadio molto difficile per una squadra che viene a giocarci in trasferta e quindi dispiace di questo però al di là di caso fuori penso che a fine anno i punti quando si vanno a sommarli non conta se si sono fatti in caso fuori ma conta solo se ci sono meno. Questa partita mi preoccupa molto, speriamo di prepararla bene perché sarebbe un peccato non fare la miglior partita possibile, poi come al solito il risultato lo vedremo.